Ritorna Hulk, incredibile, organizziamo un incontro. Amici sportivi, il loro incontro è l'incredibile Hulk. Ehi, ingontro, voleva dire intervista. Attaccati al telefono. Mamma, volevo sapere la ricetta segreta del tuo pesto alla genova. Mi passi la nonna. Certo che ho tempo. Raccontami di quando ho i 40 anni. Non riattaccare fino a staccare. Passa a me anche loro. Un attimo che la richiamo sul fisso. Scusa, puoi ripetere? Certo, lo scopri anche un mese. Parla ma, e ti conviene. Con Maxity in parole sempre ai 400 minuti di conversazione. 24 ore su 24 a 15 euro al mese. Ma come si stanca, nonna? Una volta che siamo al telefono... Hulk, ma che quando da rabbi diventi verde scuro?